ciao a tutti e bentornati sul canale del garante in questo nuovo video andiamo a vedere come sistemare un errore che viene dopo aver mandato l'analisi. Una ragazza che segue il mio canale mi ha mandato questo dubbio che aveva e ho provato a risolvere il problema così. Abbiamo solamente questo file in .sdb che apriamo con sap2000 e vediamo qual era il problema che aveva appunto riscontrato. In questa fase l'analisi è stata mandata e sono stati controllati poi i valori delle masse assegnate piano per piano perché a questa struttura erano stati assegnati dei constraints, quindi vincoli di diaframma in questo caso. Vedete qui c'è scritto diaframma 366,1. Questo 366,1 per cosa sta? Sta per la quota, quindi qui potete vedere 244,1 e qui anche potete vedere 122. Quindi se noi mettiamo per esempio una vista diversa, per esempio standard sezioni e leviamo anche per esempio i local access delle aree, abbiamo un modello un pochino più pulito e andiamo per esempio a vedere, a selezionare quelli che sono i vincoli di diaframma, quindi joint constraints, per esempio qui clicchiamo select e come vedete è evidenziato tutti i punti che sono interessati dal constraints di diaframma, 122. Quindi show selection only, vedete, sono questi punti qua. se ci mettiamo per esempio una vista 2D, a questa quota qui, che vedete 122 IN, poi vediamo appunto qual era il problema, sono i punti del primo orizzontamento. Se noi poi andiamo negli altri orizzontamenti, vedremo che questi vincoli di diaframma sono stati assegnati a tutti gli orizzontamenti. il problema appunto qual era? Il problema era che, vedete, qui c'è scritto kilopascal, inches e fahrenheit. Per cui se noi mandiamo l'analisi vediamo che cosa succede. Chiaramente la struttura darà delle risposte a livello modale di deformazione e noi possiamo anche andare a controllare dal file .out le masse associate ad ogni piano. Quindi come vedete qui abbiamo diaframma 122, constraints rigid, DOF sono U1, U2, R3, proprio il vincolo di diaframma lungo Z. Però vedete qui traslazioni masse e momenti di inerzia sono U1, 1,82, 1,82. Quindi la ragazza appunto mi ha contattato mi ha detto a me sembrano valori piccoli. Chiaramente sono valori piccoli perché sono valori piccoli perché le unità di misura, come abbiamo visto, sono kilopascal, inches e fahrenheit. A questo punto mi ha detto non è che voglio stare a convertire dal file .out tutto il file. Come posso fare per risolverlo? A quel punto mi è venuto in mente uno stratagemma utilizzando importa e esporta. Quindi che cosa ho fatto? Sono andato su Define, ho fatto Join Constraints, ho deletato, quindi cancellato, poi cliccando su OK, i vincoli di diaframma e che ho fatto? Ho salvato il modello con kN, metri e gradi centigradi. Quindi sono andato nella cartella in cui avevo salvato il file, ho selezionato tutti questi, cancellandoli e che ho fatto? Ho salvato il file come kN, metri, gradi centigradi come potete vedere. Se clicco il tasto destro, ai punti, ai vari rizzontamenti non ci sono più i vincoli di diaframma. A questo punto che ho fatto? Ho esportato il modello, quindi sono andato su File, Export con AccessDatabase.mdb. Non ho provato in altri formati, probabilmente funziona anche per altri formati, questo vi invito magari se volete approfondirlo a provare, in .mdb. Cliccando su tutto, vedete mi ha selezionato tutti i campi, quindi io in questo momento sto esportando completamente il mio file. Se clicco su OK e salvo poi la cartella, per esempio in corretto, SAP2000 in automatico, qui vedete Importing XML Data Access Ready. Quindi io in questo momento chiudo il mio file, riduco questa finestra, vado qui su corretto e cosa faccio? Non apro questo file qui perché questo è un file che si apre appunto con Microsoft Access. A questo punto riapro il mio file di SAP2000, versione 22, in questo caso. Vi ricordo che se volete la versione 22 del programma c'è un video che ho fatto, mi potete scrivere via mail e vi mando la cartella di installazione. A questo punto ho fatto File, Nuovo. Come vedete, avendo aperto il modello della ragazza, in automatico le unità di default mi si sono trasformate in kilopascal inches Fahrenheit. Io invece voglio per esempio kilonewton metri gradi centigradi. Quindi apro per esempio un blank, qualsiasi, chiudo e riverifico. Quindi faccio File, New Model. Non voglio salvare questo, quindi clicco su No e come vedete in questo caso adesso abbiamo impostato le unità di misura, kilonewton metri gradi centigradi. Quindi questo è importante. Quando andate a creare un nuovo modello dovete fare molta attenzione perché se voi create un nuovo modello con le unità di misura come ad esempio probabilmente ha fatto questa ragazza, per esempio tonf tonnellate forza millimetri gradi centigradi, chiaramente poi l'analisi vi restituirà i valori con quell'unità di misura. Quindi dovete stare attenti qui, salvare le opzioni come default, default material Italy, va bene, e quindi apriamo un blank. Qui chiudiamo, a questo punto facciamo Importa, un nuovo modello, questo non lo salviamo e andiamo nella cartella appena fatta. Quindi corretto, clicchiamo su Apri e adesso taglierò un po' il video perché ci mette un po' di tempo, dato che io in questo momento sto sia importando il file con SAP2000 sia registrando lo schermo. Quindi qui come vedete sta lavorando il programma per importare tutto quello che serve per appunto andare a caricare questo nuovo modello su SAP2000. Adesso taglierò il video e riprenderò una volta che sarà importato tutto il modello. Tanto qui è solamente questione di aspettare che tutte le cose che ho selezionato nel modello e che ho esportato vengano importate. Se il video ti è piaciuto lascia un mi piace oppure iscriviti al canale cliccando su iscriviti, sulla campanella e su tutte. Ti arriverà una notifica ogni volta che caricherò un nuovo video. Buona visione! Una volta finita l'importazione del file dovrete controllare che ci siano 0 errori, 0 warnings e 0 informations. Quindi adesso potete cliccare su Done e come potete vedere la vostra struttura è di nuovo quella che avete lasciato prima. Solo che qui come potete osservare ci sono kN, m, gradi, centigradi. Quindi che cosa facciamo? Ci mettiamo in una vista 2D, selezioniamo il primo orizzontamento, clicchiamo su un punto e vediamo se ci sono dei vincoli di constraints. Chiaramente non ci sono perché li avevamo levati. Selezioniamo questo primo orizzontamento, selezioniamo tutti i punti del secondo orizzontamento e infine selezioniamo tutti i punti del terzo orizzontamento. In questo caso Assign Joint Constraints, gli assegniamo il vincolo di diaframma ad ogni Z diversa, perché chiaramente ci siamo messi ai tre orizzontamenti. Clicchiamo su OK, diaf1, OK e lo dobbiamo assegnare. In questo caso possiamo anche non cliccare su Apply perché sappiamo già che cosa vogliamo fare e quindi ci risparmia del tempo. Clicchiamo direttamente su OK, qui chiudiamo, clicchiamo qui col tasto destro e vediamo diaf1 a 9.3. Quindi non è come prima a 366 inches ma è a 9,3 metri, quindi questo ci conforta. Vediamo anche qui 3,1 metri. Quindi se adesso noi mandiamo l'analisi andiamo a vedere che cosa è successo al file .out che in questo caso ci darà i risultati che non ci aspettiamo in kN, metri e gradi centigradi. Quindi apriamo la cartella corretto, apriamo il file .out e come vedete i risultati sono ben diversi. Qui potete vedere diaf1 3,1 metri constraints, sempre i rigi dei DOF sono gli stessi, 1,2 e R3. In questo caso le traslazioni di massa e le masse associate ai momenti di inerzia sono molto diverse. Come vedete era 1, adesso è 319 in 1,2. Qui anche valori del centro di massa, in questo caso sono in metri. Vedete anche qui le masse del secondo orizzontamento come sono cambiate e le masse del terzo orizzontamento. Quindi direi che per questo video è tutto. Se volete poi provare a sbizzarrirvi facendo l'esportazione e l'importazione magari invece che con formato mdb, col formato excel oppure in .s2k, un xml, potete farlo e magari lasciate un commento qui sotto per dirmi se funziona oppure no. Spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale se volete rimanere informati spuntando la campanella tutte. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!